E allora siamo alla vigilia del match del fine settimana, la Lars Virtus Arichi Salerno fa gli straordinari, domenica in campo sul parquet di Fiorenzola, con me come al solito per presentare la partita e l'avversario c'è coach Germa Asciutto. Ciao coach, buonasera. Ciao, buonasera, come va? Allora coach, abbastanza bene, sono io invece che ti chiedo qual è la situazione, soprattutto dal punto di vista del recupero delle energie da parte della squadra, extra sforzo lo abbiamo detto non più tardi di 48 ore fa, è stata una settimana molto intensa, il match di Livorno ultimo in ordine cronologico, neanche il tempo di ricaricare le batterie si parte per un'altra trasferta impegnativa. Sì, dopo di avere una trasferta, di fare un viaggio un po' lungo, dopo giocare contro la Piela in casa mercoledì è stata una partita molto tosta, intensa, di fisico. Niente, adesso arriva questa partita domenica che è un'altra partita che è anche tosta perché per noi è molto importante di avere un risultato positivo, sicuramente i ragazzi si devono riposare per trovare un po' di energia, abbiamo riposato e niente, dobbiamo adesso cercare di che Nando Matrone e Acunso vediamo se in questi giorni, se domenica stanno un po' meglio per farlo entrare in campo. Niente, manca un po' la rotazione della squadra, però andiamo avanti, domenica dobbiamo cercare di continuare come mercoledì, giocare intensamente, fisicamente, che sarà una partita più o meno simile a quella. Coach, ce lo siamo detti proprio mercoledì, no? Segnali della squadra comunque sono arrivati contro un grande avversario, la PL Livorno, affrontiamo una squadra, io l'andrò a definire nel comunicato Stappa Precata che uscirà a breve, una squadra anche difficile da definire, nel senso che è una squadra molto ostica come tutte in questo campionato, una squadra che soprattutto in casa, dinnanzi al pubblico amico, si esalta, la vittoria con Sant'Antimo è una dimostrazione di questo, record di 4-2 tra le Muramiche, una squadra che arriva, tra l'altro questa partita sicuramente arrabbiata dalla sconfitta con Legnano, quindi tutti gli ingredienti per una partita nella quale la parola chiave sarà intensità. Sì, sì, io dico sempre la intensità e il gioco fisico aggressivo non deve mancare mai perché in questa divisione è quello che soppresale della via nazionale, l'intensità e l'aggressività in tutte le squadre ci sta, è quello che devo fare, magari se non c'è il giocatore di qualità, la dinamica ti dà qualcosa in più, allora domenica non solo una squadra che ha buon tiratore, ha buoni più che fanno di grandi blocchi per il suo tiratore, dobbiamo stare attenti molto a quello, niente, non ha solo quello, ha due o tre cose in più, però lo più importante è quello, tenersi al tiratore e fare molta più pressione sulla palla, come ha fatto mercoledì e continuare per quello, cioè noi lavoriamo così e dobbiamo arrivare adesso che magari Nando è meglio e Acunso può giocare, magari sarà un po' più di minuti per lasciare fuori Chekowicz che ha giocato molto mercoledì e niente, che viene con 3-4 partite consecutive, con 5-38 minuti molto, anche altri giocatori, però speriamo di poter arrivare alle intensità che vogliamo noi. Coach, proprio dal punto di vista delle rotazioni, di quelle che sono state le difficoltà e in qualche modo quelli che sono anche i rischi, in qualche modo che bisogna correre in questa fase, perché è chiaro che né Matrone né tantomeno Acunso, laddove dovesse farcela, facciamo sempre il condizionale, possono avere il ritmo partita, è chiaro che in situazioni come queste è sempre un rischio, però probabilmente al momento c'è consapevolezza, correggimi se sbaglio, anche da parte del gruppo, che questa è una partita molto molto importante in ottica di ciò che potrà avvenire di qui in avanti, perché è chiaro quattro sconfitte si fanno sentire, ma al di là delle quattro sconfitte, come dire, una vittoria in trasferta, lo sappiamo perché poi la vittoria con Rieti è stata sicuramente significativa, vale forse qualcosa in più anche di due punti, no? Sì, noi sappiamo, allora, io dico sempre, noi sappiamo che chi manca è la squadra, non andiamo a giocare con quel pensiero che manca, andiamo a giocare bene e a trovare la vittoria, dopo ci sta che la testa e le gambe non arrivano, va bene, vai avanti, però sempre andiamo a prendere la vittoria, a giocare bene, dico, e a prendere la vittoria, sempre, mai andare a vedere che succede, capito? Perché se no lì è un disastro, neanche lamentarsi durante tutta la settimana che manca questo e manca quello, non serve a nulla, e niente, noi siamo sempre disposti, i ragazzi sono sempre, sempre disposti con tutta l'energia per fare il meglio per la squadra, quello si vede sempre, non posso dire altro perché è reale, è tangibile. E così, e così tutta la settimana quando possiamo allenare, se alleniamo al 110%, non mai dire no, oggi non la sento, capito? Veramente stavamo allenando bene, solo che manca un po' di qualità a volte l'allenamento, però è normale della mancanza di qualcuno giocatore. Certo, assolutamente, coach, io ti ringrazio come al solito per la disponibilità, ricordo a tutti, si gioca domenica alle ore 18, diretta video sempre e comunque su LNP TV Pass e ovviamente potete seguire tutti gli aggiornamenti sui nostri canali social ufficiali, grazie ancora coach. Grazie a voi.